Amici sportivi e appassionati di Hockey in Line, vi diamo il benvenuto a questa prima semifinale in programma per oggi di Coppa Fieser tra gli Asiago Vipers e Igo Spalba. Il palo, il rebound, il palo, il rebound, anche se devo dire, ripeto, secondo me è un buon power per i da parte. Come spesso accade, anche se devo dire, ripeto, secondo me è un buon power per i da parte. Come spesso accade, Gossiago piuttosto di affrontare i gnocchi, c'è comunque del timore. Gossiago piuttosto di affrontare i gnocchi, c'è comunque del timore. Una partita equilibrata con continui ribaltamenti. Bel gol. Una partita equilibrata con continui ribaltamenti e c'è il... Bel gol. Dica, dica, attenzione. Eh sì, è il rebound, il rebound. Dica, dica, attenzione. Eh sì, è il rebound, il rebound. Lavorando insomma tutti insieme per cercare di capire quali potrebbero essere problemi e come cercare di aiutare varie società. E ragazzi... Vai due contro l'uno e c'è il gol. Vai due contro l'uno e c'è il gol. Sì, è il gol. Sì, è il gol. Sì, è il gol. Sì, è il gol. Allora, subito una bella parata di Gianluca Stella e il fallo. Questa situazione... grande grande biscottata di questa situazione grande grande biscottata di sì è una buona occasione perché inizio secondo tempo sì è una buona occasione perché inizio secondo tempo hanno cambiato la linea adesso hanno cambiato la linea adesso bella deviazione bella deviazione asiago che si schiera giustamente a box bello 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 asiago che si schiera giustamente a box bello 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 pazio qua padova ex vicenza riferimento a differenza dell'anno scorso pazio qua padova ex vicenza riferimento a differenza dell'anno scorso e c'è di nuovo il gol e c'è di nuovo il gol possibilità di giocarvi questa semifinale e magari possibilità di giocarvi questa semifinale e magari per il contributo ma figurati mai una birra una cena va bene grazie a te bene per il contributo ma figurati mai una birra una cena va bene grazie a te bene sarebbe molto comodo in questi frangenti di gioco adesso qua ormai 2 contro 1 e c'è il gol di valet sarebbe molto comodo in questi frangenti di gioco adesso qua ormai 2 contro 1 e c'è il gol di valet un compagno di vita dopo è stato esatto ma c'è proprio facile giocarci assieme molto semplice perché comunque un compagno di vita dopo è stato esatto ma c'è proprio facile giocarci assieme molto semplice perché comunque questo è il gol di valet